Viviamo in un mondo che ti spinge sempre più a pensare che tu devi stare bene da solo e questa è una cosa secondo me contraria proprio alla natura dell'uomo e invece per tanti motivi che sono legati a tante dinamiche ci fanno credere che prima di stare bene con un'altra persona dobbiamo stare bene con noi stessi ma io se non sto con un'altra persona non so chi sono come faccio a stare bene? Non mi interessa proprio quella è una grande miseria secondo me cioè la letteratura di una miseria che ci viene raccontata come se fosse una ricchezza e invece quella è la più grande miseria